Bene, terza C. Come vi ho detto ieri, quando ci siamo video incontrati, abbiamo finito la gravitazione universale. Quindi il prossimo argomento che vorrà iniziare, diciamo, tra oggi e domani, ma non voglio neanche riempirvi di video, comunque il prossimo argomento sarà sulla termodinamica. Iniziamo questo nuovo percorso, un percorso interessante che ci vedrà impegnati da qui alla fine dell'anno. Allora prima, per chiudere un pochettino, vi volevo lasciare stamattina un compito in classe senza classe, per cui come al solito non è obbligatorio, nulla in questo momento è obbligatorio, è consigliato. Per quelli di voi che hanno già mandato, ce ne sono diversi e diversi tra di voi che hanno già mandato approfondimenti o esercizi, potete anche non farlo. Però siccome è qualcosa, penso così, di divertente anche per voi, anche chi ha già fatto può mandare, perché poi io prendo tutto quello che voi mi mandate e cercherò di dare valore a tutte le vostre attività, il vostro impegno che state dimostrando, tutti e tutte. Per chi di voi ancora non sarà deciso a trovare un argomento di possibile approfondimento, questo potrebbe essere uno spunto, un'idea, va bene? E l'idea è quella di farvi fare, a mano o col computer, un misto, come preferite voi, insomma anche il vostro estro artistico, quella che in fisica, in astrodinamica si chiama una delta v map, cioè una mappa di differenza di velocità. Apro la lavagna e vi dico di cosa si tratta. Quindi una, abbiamo detto, delta v map, detta anche delta v, scritto in simboli map. Ok? Se cercate in rete trovate un sacco di esempi e ce ne sono alcuni molto carini, queste mappe rappresentate tipo mappa della metropolitana di Londra, che è proprio iconica di alcuni anni, anni della mia gioventù, ma comunque insomma potete fare questa mappa come volete voi. L'idea è molto semplice. Supponiamo che questa sia la Terra e la rappresentiamo come un punto in questa mappa, una stazione, e supponiamo che questa per esempio sia un'orbita circolare intorno alla Terra bassa, quella che normalmente si indica con Leo, che sta per Low Earth Orbit. Ok? Allora io so che per andare dalla Terra in un'orbita circolare bassa, devo variare la mia velocità. Quando sono sulla Terra la velocità è zero. Quando mi sposto su un'orbita bassa, voi vi ricorderete, abbiamo visto insieme, che la velocità orbitale è la radice di gm fratto r, dove r è la distanza. Allora, se questa è la Terra e questa è l'orbita, r è r più h. Allora, cosa si intende per orbita bassa? Qualche centinaio di km. Per darvi così un'indicazione, poi dopo scegliete voi, però mi va bene, basta che sia giustificata, possiamo considerare orbita bassa quando h è minore, che ne so io, del 10% del raggio. Siccome il raggio della Terra è circa 6.000 km, un'orbita bassa potrebbe essere, per esempio, circa 600 km. Ok? La stazione spaziale internazionale, per esempio, è un po' più bassa di queste 400. Ci sono orbiti intorno ai 200-300 km più bassi, no, perché se no si interferisce eccessivamente con l'atmosfera. Allora, dicevamo, per andare da qua a qua, devo acquistare una certa velocità. Quindi la mia velocità, che quando sono fermo sulla Terra rispetto alla Terra, è 0, per passare un'orbita bassa intorno alla Terra, deve passare a questo numero qua. Se vi ricordate, veniva intorno a 7.000-8.000 km, però vorrei che faceste voi il calcolo. Ok? Quindi supponiamo che la velocità in un'orbita bassa sia di 8.000 km, allora, scusatemi, 8.000 m al secondo, quindi 8 km al secondo, mettiamo qua 8.000. Nella nostra mappa scriverete le velocità sono espresse in km al secondo, fate una specie di leggenda, e quindi questo è, come dire, il primo tragitto che potete compiere dalla Terra all'orbita bassa 8 km al secondo di delta V. Ok? Poi vi ho fatto calcolare, per esempio, le orbite geostazionarie, no? Quindi possiamo mettere un'altra stazione, geo, orbita geostazionaria, ok? In cui vi ricordate la velocità dell'orbita deve essere tale che il periodo orbitale è uguale al periodo di rotazione della Terra intorno al proprio asse, ok? E allora potete scoprire anche in questo caso qual è la velocità che devo imprimere all'oggetto per essere in orbita geostazionaria e possiamo andare o direttamente dalla Terra, ma in una specie di mappa, appunto, facciamo così, ci trasferiamo prima dalla Terra in un'orbita bassa, quindi abbiamo il delta V. E poi con un trasferimento di Hohmann, come vi ho fatto a lezione, possiamo trovare quale sia il delta V che devo, come dire, spendere per andare in un'orbita bassa in un'orbita geostazionaria. Attenzione che nel trasferimento di Hohmann il delta V è per immettermi nell'orbita di trasferimento e poi per fermarmi nell'orbita geostazionaria, quindi la somma dei due delta V darà un qualche numero qua. E quindi qui metterete quanta velocità devo variare per andare dall'orbita bassa all'orbita geostazionaria, e qua ci sarà un numero, ok? E poi possiamo divertirci ad andare oltre. Per esempio, supponiamo di voler arrivare sulla Luna. Allora esiste un punto interessante che vi lascio come esercizio per calcolare, ma è molto semplice. Un punto interessante in cui, se questa è la Terra e questa è la Luna, la forza di attrazione gravitazionale terrestre, chiamiamola FT, e la forza di attrazione gravitazionale lunare si equivalgono. Da quel punto in poi, la forza, quindi se mi avvicino ancora di più alla Luna, la forza gravitazionale lunare prevale. Si chiama punto di cattura lunare, ok? Allora possiamo chiederci se questo è il punto di cattura lunare, chiamiamolo PL, anzi PCL, punto di cattura lunare, quale deve essere il delta V che devo imprimere alla mia astronave per andare da un'orbita bassa lunare al punto di cattura lunare. E quindi qua ci sarà un altro numero, ok? E poi potrei immaginare, se questa è la Luna, ok? Quale può essere, per esempio, il delta V per andare dal punto di cattura a una low lunar orbit, anzi, low moon orbit. Quindi un'orbita bassa lunare, prendete il raggio della Luna che trovate in internet, calcolate il 10% e fate finta che quello sia il nostro LMO. E poi, per andare dall'LMO alla Luna, quindi l'atterraggio, ok? In tutti questi calcoli trascureremo, cosa che non abbiamo potuto calcolare e non calcoleremo, il delta V che si perdono per attrito, quindi facciamo finta che siamo tutti su pianeti come la Luna dove non ci sia atmosfera. Quindi, per esempio, in questa piccola mappa, una specie di metropolitana, abbiamo sei fermate. La Terra, orbita bassa intorno alla Terra, orbita geostazionaria, punto di cattura lunare, quindi il punto in cui la trazione gravitazionale lunare e la trazione gravitazionale terrestre coincidono, orbita bassa lunare, Luna. Ok? Quindi abbiamo una specie di mappa in cui ogni tratto ci dice quanto delta V devo incrementare per poter passare da uno all'altro. Incrementare o perdere, perché chiaramente se vado nel verso opposto, per esempio da un'orbita bassa a tornare sulla Terra, qui ho, diciamo, 8 km al secondo, sulla Terra ho zero, quindi se vado in questa direzione devo perdere, ok? Ma siccome ai fini dei motori, quando io accendo il motore per fare un delta V, cioè una variazione di velocità che io acquisti o perda la velocità, cambia poco, cambia solo il verso con cui io accendo i motori, diciamo, da un punto di vista così del budget della missione, non cambia niente. Ok? E quindi è interessante perché potete costruire una mappa e, come vi dicevo, in internet se andate a cercare delta V map, trovate delle mappe bellissime che sembrano quelle della metropolitana, no? Quindi con colori, eccetera. E a questo punto lascio anche il vostro estro artistico. Quindi due aspetti. Uno, deve essere fisicamente accurata nei limiti, chiaramente, dei calcoli che possiamo fare noi, quindi niente attrito, eccetera. Però le velocità orbitali basse, geostazionari, il punto di cottura della luna, una velocità orbitale intorno alla luna per orbita bassa, sono tutte cose che potete calcolare con la fisica che abbiamo visto nelle videolezioni. Quindi deve essere fisicamente accurata e, perché no, esteticamente interessante. Se poi qualcuno di voi vuole in qualche modo strafare, può anche andare a costruire una mappa in cui ci sia anche quello che si chiama l'EARF C3, cioè il punto di fuga. Quindi sono in una vita bassa e voglio fuggire dalla Terra. Voi sapete che la velocità di fuga l'abbiamo calcolata. Possiamo vedere, qua ne ho già un po', quanta velocità devo aggiungere per poter fuggire dalla Terra. E una volta che sono riuscito a fuggire dalla Terra, per esempio, quale potrebbe essere la velocità per raggiungere un delta v, scusate, non la velocità, un delta v, per esempio, per raggiungere Marte. Immaginiamo di voler mettere Marte. E quindi quale potrebbe essere un delta v per... e anche qua dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto per la Luna. Cioè, prima di raggiungere Marte, dobbiamo raggiungere il punto di cattura di Marte, poi un'orbita bassa di Marte. Qui si confonde, ma questo è Marte, questo è Moon, Luna. Potevo mettere qui una L, va bene. Mettiamo qua una L, Lunar. E qui Low Mart Orbit. E poi, chiaramente, a questo punto abbiamo Marte. Quindi abbiamo diversi delta v che possiamo calcolare. I più scalti di voi potrebbero fare anche un programmino in qualche linguaggio di programmazione o, per esempio, un foglio di calcolo in Excel che implementi questa forma delle velocità orbitali e ci permetta quindi di costruire in maniera più agevole una delta v map. Allora, mappa delta v, mappa di differenze di velocità. Spero che sia chiaro. Potete cercare chiaramente in Internet. È un compito in classe senza compito che vi può portare via un pomeriggio di lavoro e che in questo momento penso che male non vi faccia tenere la mente occupata, va bene? Quindi invito tutti voi e tutte voi a stupirmi con i vostri lavori fisicamente accurati e esteticamente interessanti. Se avete dubbi o domande su questo compito, che ripeto non è obbligatorio, potete scrivermi o contattarmi con i mezzi che conoscete quando volete. Buon lavoro a tutti e a tutte!